Buongiorno, bentornati a casa mia. Le mie ultime parole famose, oddio, le frasi famose erano due. La prima che dovevo smettere di spendere soldi, la seconda è che dovevo comprarmi un giaccone e mi ero messa da parte dei soldi. Proprio per questo scopo ne ho di giacconi, grazie a Dio, anche perché qui fa un freddo, che insomma il giaccone ci vuole sempre, anche tra un po' dentro casa, Sirio, togliti. Ma niente, non ce l'ho fatta, anziché il giaccone, ho preso una cosa che, vabbè, è facilmente immaginabile, insomma. Se si toglie Sirio, forse riesco a farvela vedere. Ecco, è arrivata adesso la postina e ho preso da Amazon le Faber Castle. Allora, le Faber Castle, Gold Faber, quelle semplici, non quelle acquerellabili, anche perché io non ho mai acquerellato in vita mia e non credo che lo farò mai, essendo già imbranata di mio a semplicemente a colorare, figuriamoci a usare all'acquerello. Comunque Faber Castle 48, barattolo in latta da 48 matite. Allora, perché ho preso altre matite colorate e perché le Faber Castle? Allora, ho preso altre matite colorate perché insomma, reduce dalle tristi colorate delle malefiche Lira Youngster, dovevo un attimino incrementare la quantità di matite come se non ne avessi già in quantità industriale, vabbè, comunque. Allora, io finora avevo sempre preso matite, diciamo, a uso scolastico, matite tutte economiche, a parte ecco queste maledettissime Lira Youngster che sono a uso scolastico, va proprio da bambini dell'asilo, con tutto il rispetto per carità, ci mancherebbe altro, ma non sono economiche affatto. E quindi ho detto, vabbè, una marca professionale, una tipologia di matita professionale, no. Non per il prezzo alto, sì, anche per quello, ma soprattutto perché comunque in mano a me sarebbero sprecate. Insomma, io mi limito a, come spesso dico, colorare i libri, quelli per adulti antistress, quindi... Allora, ho cercato una via di mezzo. Ero tentata, e per fortuna non le ho prese, non le ho prese, le Craiola, però sempre a uso scolastico, abbastanza economiche su Amazon. Però parlo, insomma, delle Craiola a base, è la scatola da 50, viene su Amazon 16 euro e rotti. Però leggendo le recensioni... Non è che la gente ne parlasse in modo poco entusiastico, si dice entusiastico, boh, però sinceramente veniva detto che arrivavano spuntate, che avevano sostituito dei colori, che alcuni le hanno ricevute, che sembravano usate. E dato che ho visto che gliene erano rimasti solamente cinque confezioni, ho detto che capitasse a me quella che è stata rimandata indietro, perché tanti hanno scritto che le hanno rimandate indietro. Allora ho fatto una bella pensata. Allora, le Fabercast e il Polichromos, ovviamente no, per il motivo che dicevo prima, che sono professionali, e per l'altro motivo che praticamente hanno la mina 3.8. E per i libri da colorare, dove ci sono dei piccoli particolari, non credo vadano bene. E poi comunque il prezzo è stratosferico. Queste sono una via di mezzo, non sono nemmeno quelle in tipo plastica che presi super 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 economiche, ma erano uno dei miei primi acquisti proprio da profana, che infatti poi ho accantonato, che praticamente non scrivevano nulla. Queste dovrebbero essere una via di mezzo. Comunque, sul sito ufficiale di Fabercast e l'Italia, 50 euro prezzo pieno, su Amazon, ripeto sono 48, vabbè si vede, su Amazon 41,15 euro, quindi già un ottimo sconto. In più, casualmente, ho guardato sulla pagina, c'era scritto che mi offrivano 10 euro, la prima volta che mi succede con Amazon, mi era successo con eBay, mi offrivano uno sconto di 10 euro su una spesa di almeno 30 euro e fatta tramite app. Queste matite mi ispiravano, anche se hanno due difetti, per gusto mio ovviamente. Il primo è che hanno il fusto, vedete, nero col bordino ovviamente colorato, però il fusto nero a me piacciono le matite proprio colorate da cima a fondo, con lo stesso colore della mina. E poi l'altro difetto è che non hanno il nome del colore, ma questo è proprio mi sa Fabercast che c'ha sto vizio di non mettere il nome del colore, però non fate caso al pigiamino rosa, mega felpato, anti libidine, abbigliamento da casa. C'è solamente il numerino stampato, ho visto le recensioni, quasi tutti ne parlavano in modo entusiastico, a ridaglie entusiasta e quindi ho deciso di prendere queste. Ora le spacchettiamo insieme, ho tolto ovviamente già la scatola, 7 euro, scusate, 7 minuti solo per dire sta cosa, ecco. Togliamo la plastichina, bellissimo il barattolo di latta, mettiamo un attimo qua la plastica. Oggi sono nella location sala, proprio in questo momento me l'ha consegnato la postina, tra l'altro ho ordinato ieri, cioè io ho speso 31,15 a dispetto insomma del 50 euro di prezzo pieno sul sito di Faber-Castell. Insomma c'è 20 euro di risparmio, non sono briciole. Allora ecco qua, mamma mia che bello, Faber-Castell, Sains 1761, il castello dei Faber e dei Castell, di tutta la Sacra Famiglia. Un bigliettino, una piccola brochure con delle spiegazioni che poi leggerò e ecco le matite. Si presentano, la confezione integra per fortuna, ecco qua, si presentano in due teglie da 24, poi sicuramente le trasferisco in un astuccio perché io non mi trovo a prendere le matite direttamente dai barattoli, uno e due. Ecco qua, questi sono tutti i colori, le mine sembrano integre. La matita si presenta così, con un po' leggerina, la sento. Speriamo, come si dice a Roma, di non aver preso una sola. Sono rotonde, vedete? Ecco. Sono di facile impugnatura, sono molto leggere, molto leggere. Comunque insomma poi le proviamo insieme ovviamente. Ecco qua, ci sono diverse tonalità di blu, i verde acqua, turchese, l'oro e l'argento, i grigi, i marroni, i verdi. Ci sono parecchie tonalità di marrone, anche gli azzurri sono diversi. Non c'è un lilla, almeno credo, purtroppo. Comunque lilla. Per ora ne ho un paio della Marco Raffinè. No, non c'è lilla. Vabbè, poi comunque le proviamo insieme e facciamo il colorario. Ok, poi eventualmente vi faccio sapere come mi ci sto trovando. A primo acchitto, ripeto, mi lascia un po' perplessa la leggerezza della matita. Forse è proprio così che deve essere, ma speriamo che siano buone. Va bene? Ok, io auguro buona giornata a tutti. Spero che qualcuno sia stato alla visione e grazie se ci sono stati nuovi iscritti. Parliamo di colori, coloriamo la vita. Un abbraccio forte forte, alla prossima.